La scuola di Giovanni Battista Belzoni Andando poi a fondo del chi è stato Belzoni È un argomento che già i padovani conoscono poco Per il santo Non ho lasciato l'Italia per diventare un fenomeno da baraccone La cultura popolare dell'Ottocento è fatta da personaggi come Belzoni Era un uomo che aveva la curiosità su tutto Nessuno si era mai spinto dove si era spinto lui Per cui è un uomo che io l'ho trovato affascinante sotto molti aspetti La scuola di Giovanni Battista Belzoni